Mostra Hotel Regeneration che ho creato per questo salone del mobile, per questo fuori salone. Una delle installazioni alle quali tengo di più è quella del gruppo Arnegg che ha lavorato sia sulla parte del bar sia sulla parte del wine and bookshop. Abbiamo voluto far vedere che i nostri mobili, i più trend, possono essere collocati in quelle situazioni di hotel, food retail. Sempre più Intrac si sta affacciando e approcciando a un nuovo mercato, molto più vicino all'arredamento, collaborando con grandi studi di architettura, grandi firme del mercato. Ci aspettano solo un'estraordinaria.